Si dice spesso che la toppa è peggio del buco e nel caso delle tariffe per i parcheggi ad Arezzo a quanto pare è proprio così. Il nuovo piano per il 2022, recentemente approvato dalla Giunta Comunale di Arezzo, non smette di suscitare polemiche. I parcheggi Eden e Cadorna saranno a pagamento in tutti i festivi, la riduzione dell'abbonamento da 23 a 20 euro è previsto per Baldaccio e Mecenate per i lavoratori della zona, ma quello che fa più discutere è il passaggio da 1,50 euro a 2 nel centro storico. Allora noi abbiamo modificato via Spinello, via Assab, via Guadagnoli, via Margheritone e via Rodi, quindi sono le aree proprio che sono dentro e sono le zone limitrofe proprio a quello che è il Corso, a quello che è Piazza Sant'Agostino, quindi proprio le aree che sono in prossimità proprio del centro e prevede proprio l'alta rotazione. Con l'alta rotazione noi cosa andiamo ad intendere? Quindi trovare maggior possibilità di parcheggio per quegli acquisti veloci, per quelle necessità che ogni utente può avere all'interno del centro storico in un tempo veloce. Secondo i commercianti questa è una stangata solo per gli aretini e ne risentirà anche il tessuto commerciale. Io penso che Arezzo è più l'arettino che il turista, perché il turista a parte quando c'è la città del Natale ne vediamo pochi Arezzo, non è Siena, non è Firenze, Arezzo vive con gli aretini, quindi questa è una tariffa che aumentandola significa aumentare un costo agli aretini. Però noi commercianti chiediamo un attimino di riguardare questa tariffa anche perché comunque sia noi commercianti specialmente del centro la gente ne la stiamo vedendo sempre meno, questo non lo dico io ma lo dicono un po' tutti quelli che sono nel centro. Ci sono sicuramente i cosiddetti parcheggi scambiatori che hanno comunque tariffe più ragionevoli. Se a oggi noi vogliamo comunque pagare la stessa tariffa un euro e 50 che avevamo ieri nella prossimità di questi parcheggi quale abbiamo comunque perché voglio ricordare che la Cadorna e l'Eden sono rimasti un euro e 50 quindi attaccato a questi parcheggi qui abbiamo anche la possibilità di parcheggiare la tariffa come era prima essendo sempre su quel posto là. Se poi dopo uno decide di fare una sosta più lunga per rimanere all'interno del centro storico diamo importanza a quelli che sono i parcheggi decentrati, mecenati e baldaccio che vengono 70 centesimi l'ora oppure 3 euro tutto il giorno quindi e sono vicini perché in 5 minuti riusciamo ad entrare dentro il centro storico. Prendendo ad esempio una città simile ad Arezzo come può essere Perugia è noto che in prossimità dei parcheggi scambiatori ci sono mezzi e sistemi di mobilità che consentono comunque di raggiungere il centro storico senza camminare eccessivamente. Ad Arezzo di fatto c'è solo il parcheggio pietre e il sistema delle scale mobili che peraltro spesso e volentieri funzionano a singhiozzo. Io ti dico solo che a Arezzo mancano i parcheggi e la cosa principale è costruire i parcheggi come fanno in tutte le città turistiche al di fuori delle mura vicino al centro perché ci sono le persone anziane, ci sono le famiglie quindi non è che tutti possono camminare come dicono tante persone che possono fare magari qualche chilometro a piedi insomma per venire in centro.